Siamo in PIL, lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Ora si parte, siamo in PIL cazzo Sono 80 alla settimana i trai Eh vabbè dai, però idocropo c'è, cominciamo bro Mamma mia, vergognoso brother, c'è dragon pull stabata Gible Zero su uno, giù questo capi? Ed è autofrock, il capitano bro, proprio lui così, autofrock pazzesco PEM, PEM 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 Dai bro, carta, 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 carta Sì, no mi arrestano bro, sì No, non mi arrestano Ma come, quanti vorresti? Porco dio quanti Furressa come tre Furress come tre Furress dai Geodude please Geodude please ah non me lo fa vedere che io non è Dragon Rage ragazzi non è considerato Dragon Rage era l'ultimo pelato della torre vero era l'ultimo pelato della torre vero incredibile 41 HP bro era l'ultimo pelato la fatica giusto madonna che sfiga dai allora autofrock pazzesco autofrock pazzesco su capoli 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 mi andrei diretta hard power qua sembra meglio nice forse morto merda che iazzata capo però oh boy lo proverai Venusor probabilmente tanto sto bliss è un bidone dai bro madonna mia son morto perché ha più di 28 di speed cioè ma stiamo scherzando bro assurdo cazzo incredibile bro più di 28 di speed c'ha questo no sense completamente oh 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 idol godo oh idol go su capoli di merda coglione succhia cazzi di un poli oh succhia cazzi di un poli godo me la volevi crittare vediamo se fa la fatica cabuto bam bam questo è il motivo del per cui non ci prendiamo i 40 punti di cleffa ma i 3.50 nella fatica merde questo è il motivo del per cui non ci prendiamo i punti safe di cleffa perché tocca rischiare la vita qualche volta goloso capo goloso 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 dio svegliati imbecille coglione non li segna i punti rincoglionito di un jomek cliccato non li segna 8 ore per jomek rincoglionito dai che palle bro però madre ma cos'è sta roba quanto mi ha tolto lui di vacuum wave poco no mi sa che devo provare crash grip qua madonna assurdo che cazzo sta espion che cazzo è sta roba porco dio godo scusa scusa ho paura che per forza far petalodanza ora crepo all'ultimo no bro guarda non mi fare incazzare che non sono in vena ho it 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 non cominciamo eh io bestia tre volte hit da solo ancora basta basta rodom è il quarto che trovo incredibile bro si opertò un giocapo è il quarto che trovo incredibile dio cazzo morto da rodom ma per forza perché ecco il quarto rodom che trovo tra qua e la torre buona difesa si oh 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 madre oh godo godo please bro fammela fare sta carta ora oh oh ma dai carta del thunder alla prima run sto arrivando coglione sto arrivando palimerda I'm coming there coglione era roll se resisteva mi inculava ok trauer stab incredibile uno di vita il the dream raga che sfiga io non ci sto credendo bro io sono senza parole che script disumato no da micropona che sfiga bro